Sì, la scorsa partita abbiamo fatto parecchi errori che potevamo non commettere e Trento comunque è stata brava a imporre il loro gioco, la loro fisicità e noi ne abbiamo subito, ahimè non per questo vogliamo rifarci immediatamente e non vediamo l'ora di sabato Assolutamente, Brescia viene da due sconfitte, però anche noi ne veniamo da una quindi sia noi che loro saremo molto carichi e secondo me andrà chi avrà più voglia di vincere la partita Brescia ogni anno abbiamo delle belle partite, di solito all'inizio anno, anche l'andata ci hanno battuto quindi abbiamo voglia di rifarci anche per quello Brescia è una squadra con molti punti nelle mani, con molto talento, molti americani hanno della valle che in qualsiasi momento devi stare attento che può andare a segnare hanno siccome è un buon nucleo di italiani anche a Chelle per esempio può metterci in difficoltà, può andare tanto in basso d'attacco hanno il Kobe, sono i lunghi, sono una squadra molto lunga e noi dovremmo imporre il nostro gioco, farli correre e migliorare un po' in difesa Sì, sinceramente non vediamo l'ora a tutti di tornare a giocare in casa perché avere il palazzetto ogni domenica, ogni weekend pieno è bellissimo e ci dà una carica in più, un vantaggio in più Grazie a tutti Grazie a tutti